Come più volte richiesto dai sindaci della Valfino, finalmente nella mattinata di oggi sono iniziati i primi tamponi a tappeto presso i comuni di Castiglione, Messerremondo, Castilenti e Montefino, tre dei cinque comuni all'interno della zona rossa più colpiti da coronavirus. Questa prima parte di tamponi riguarderà tutte quelle persone individuate dai medici di base in quanto mostrano sintomi da Covid-19 e sono in isolamento domiciliare. Mentre, sempre nella giornata di oggi, ma in un'altra postazione, sono state sottoposte al tampone tutte quelle persone che per lavoro sono esposte a rischio. Come vedete dalle immagini, gentilmente concesse dal sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole, in un primo step le persone chiamate a sottoporsi al tampone vengono fatte sfilare in macchina davanti ai sanitari della Croce Rossa che annotano le generalità. Nella fase successiva, una volta arrivati all'interno di un gazebo, personale sanitario adeguatamente protetto effettuerà il prelievo della saliva per eseguire il test. Nel solo comune di Castiglione Messerremondo sono circa 180 i tamponi da effettuare nella postazione fissa, mentre un centinaio quelli domiciliari. Qui, ieri, si è registrata la quattordicesima vittima da inizio epidemia e i dati sono sempre più allarmanti. 56 sono i contagiati su una popolazione di quasi 2200 abitanti, cioè il 2,6%, mentre lo 0,6% dei cittadini è deceduto. A Castilenti la situazione non va meglio. Ieri si è contata la terza vittima con positività al coronavirus, ma le persone decedute con sintomi e per cui non si ha ancora l'esito del tampone sono 5, mentre 26 sono le persone ufficialmente positive al covid-19. Anche qui, come a Castiglione, questa mattina sono stati effettuati tamponi su un centinaio di persone, delle quali 40 sono a casa con sintomi. Situazione che torna ad essere preoccupante qualche chilometro più a valle, ovvero a Elice. Dopo alcuni giorni senza contagio, ieri il sindaco Gianfranco De Massis ha comunicato la positività di altri due concittadini, arrivati a 7 in soli due giorni. Qui però, come a Bisenti e Darsita, i tamponi in paese per ora non verranno effettuati.